Coinvolte 45 persone nell'indagine dei carabinieri di Nocere Inferiore che hanno consentito di scoprire una organizzazione dedita alle truffe e ai danni di IMPES e agenzie delle entrate. Sono 6 gli arrestati, le indagini risalgono al 2016 e hanno permesso di disarticolare un gruppo attivo tra l'agronocerino Sarnese e l'Interland Vesuviano, del quale facevano parte anche i commercialisti, imprenditori e faccendieri che avrebbero beneficiato di erogazioni previdenziali dell'IMPS e crediti d'imposta non dovuti grazie a società fittizie e false assunzioni. Il danno accertato per l'erario è di circa 2 milioni di euro a titolo di indendità previdenziali e di circa 20 milioni a titolo di credito d'imposta, sequestrati i beni per circa 7 milioni di euro. L'operazione Leonardo è il seguito della maxinchiesta Mastro Lindo che ha già portato all'esecuzione di 44 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e professionisti e al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 137 milioni di euro.